Un provvedimento che gioverà le persone in difficoltà che vivono nella zona del Basso Cilento. Arriva il via libera del piano di zone, pagamenti degli assegni di cura per 66 malati gravi residenti nei 17 comuni dell'ambito S9. Si tratta di risorse trasferite dalla regione Campania al piano di zona S9, tiene a precisare Gianfranca Di Luca, la coordinatrice dell'ufficio di piano, destinate a persone con disabilità grave, spesso allettate, che necessita in un momento di particolare disagio fisico e sociale di un sostegno economico per far fronte alle complesse e diversificate difficoltà che ognuno di loro e dei propri nuclei familiari sono tenuti a superare. È avvenuto tutto in pochissimo tempo grazie alla sinergia tra i vari collaboratori del piano, liquidando celermente una somma davvero importante, oltre 900.000 euro, coprendo anche i periodi di assistenza a retrati che vanno dal 2016 al gennaio 2019. Insomma, davvero una boccata di ossigeno per tante persone che versano in condizioni di disagio. Un servizio di straordinaria importanza, ha spiegato Agostino Agostini, consigliere comunale delegato alle politiche sociali del Comune di Sapri, non solo perché è rivolto ad una fascia di utenza in condizioni di estrema sofferenza, ma perché rappresenta un rafforzamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'ambito territoriale S9.